Come puttabelli? Beh, se avete visto quel video, avrete capito il riferimento. Questo è Electric Tentativo di catturare l'attenzione dell'audience. Riuscito Ben trovati, vi starete chiedendo perché siamo qui oggi? Beh, se siete qui su questo video è perché vi interessava il titolo, dato che io non sono un clickbaiter e quindi scrivo quello che ci sarà. E proprio per questo so che questo sarà un video con scarse views, ma non mi interessa niente, lo sapete come sono fatto io. Siamo tutti qui riuniti in questo sacro luogo detto Ufficio del Peo, dove si disegna e si creano cose magiche, ma anche dove si aprono cavolate come i LUT ANIME. LUT ANIME! Che per chi non lo sapesse chi fosse nuovo, chi è appena arrivato e volesse anche recuperare i video scorsi dell'apertura di LUT ANIME, è una scatola delle sorprese, tutte inerenti ad anime contemporanee e non anche, in base ad un tema mensile che può essere E questo mese il tema è forza dell'amicizia e magari ci mettono a fare i retail, o questo mese il tema è credi in te stesso e nel tuo cuore... E non lo so, ci sarà qualche shonen stupido, tipo Yu-Gi-Oh! E in questo mese il tema sapete qual è? Sapete qual è il tema? Beh, io no, perché mi sono un po' perso, mi ero proprio scordato di avere l'abbonamento LUT ANIME, dato che mi sembra che il mese di luglio non sia arrivato niente per qualche strano assurdo motivo, mi sa che non doveva arrivare niente perché anche loro andranno in ferie, suppongo. Beh, questo mese è arrivato qualcosa di cui io non so niente, non ho visto su internet qual è il tema e quindi sarà totalmente una scatola delle sorprese. Voi magari lo sapete già qual è il tema perché l'ho scritto sul titolo, ma guardando attraverso questo schermo state guardando nel passato, come sempre. Quindi io direi che possiamo iniziare ad aprire e mi servono, come al solito, le forbici magiche. Ecco le forbici magiche. Apro qua, zacchete. Speriamo che non esca fuori niente di My Hero Academy, visto che ieri, anzi due giorni fa, nel video dei tre anime, un disegno ho già fatto una cappella e mi è stata fatta notare da almeno 40 di voi, ovvero che il one for all è una cosa e l'all for one è un'altra. E' ok, ok, lo sapevo, stavo disegnando, la mia testa sta al 50%, se un disegno al 50% cerca un dialogo con voi, quindi diciamo che già è uno sforzo. E se uno dice una cavolata, perdonatelo, santo cielo, non è che siamo tutti animeofili duri proprio nell'anima. Comunque sia, sto scavicchiando e sto prendo. Wow, mi sembra che già ci sia una maglietta simpatica qui. Wow, iniziamo subito alla cosa più carina, che guardate un po', sono due piccole action figure di One Punch Man. In particolare, Saitama e Genos, come potete vedere dietro se ne trovano di altri tipi, altre accoppiate magnifiche, e noi abbiamo quella di Saitama e Genos. Un po' mi dispiace che non ho la faccia un po' più scema di Saitama come qui dietro, ma c'ho quella con gli occhi scuri, non si sa per quale raro motivo. Ma andiamo ad aprirlo, già che ci siamo, così lo posso mettere vicino a tutti quegli amiibo che ho lì dietro, così che Saitama si senta un po' fuori luogo. Mi servono di nuovo le forbici magiche dove sono? Perché le metto via? Non serve metterle via. Ok, eccolo qua. Tiro fuori Saitama e Genos. Carucci, simpatici. Eeeh, c'ho sempre un problema con la spazzatura, quindi ciao, pulirò dopo, ciao. Eccoli qua, eccolo qua. È un po' sberlucicoso, non so se si vede dalla telecamera, ma è un po' brillantinoso. È estremamente lucido, una vernice molto strana quella che è stata usata per questo Saitama e che può roteare soltanto fino a un certo grado perché la testa poi sbatte e quindi quello è il massimo grado di rotazione. Però eccolo qui, è vibra e si muove, quindi questo sarebbe carino da mettere in macchina così. Si muove, si muove, si muove, si muove e roteando, alla fine in macchina starà sempre in questa posizione. Oh, si è appena staccato, si è appena staccato. Fantastico. Ottima qualità di questi pupi. Vediamo quanto è simpatico Genos. Ciao, sono Genos. Maestro, la prego, mi insegni. Io vengo da una famiglia disastrata e c'avevo due figli e poi li ho stuprati tutti e due. Ok, come l'ho detto, li lascio qui vicino a Levi. Non ci ho pensato, avrei potuto usare una camera 2, ma non ci voglio, ha troppo lavoro. Riprendo la scatola e vediamo cos'altro. C'è una maglietta. Wow, wow, e questa sembra molto colorata, molto figa. Guardate qua, è molto figa. È di Trigan, mi sembra. Sì, questa è bella, oh. Questa è bella, zio. È bella. È la maglietta di Trigan. Se non l'avete visto Trigan, sappiate che si vede anche su YouTube, doppiato in italiano, facilmente trovabile. Da vedere, assolutamente. Un altro bel anime anni 90, molto simpatico da vedere. E già che ci sono, io direi che potrei mettere questa maglietta in modo istantaneo, così. Oh, a lei. Fatto. Avete visto che magia? Non le sapete mettere le magliette in questo modo, eh? Ci vogliono anni e anni di esperienza nel mettere le magliette, togliere le magliette. Io avevo un senpai, un maestro che mi faceva sempre, metti maglietta, togli maglietta, metti maglietta, togli maglietta, metti maglietta, togli maglietta. E poi a un certo punto ho detto, togli mutanda. E lì che volevi arrivare, eh? Zuzzo di un pedofilo. E perché io ero piccolo all'epoca, quando stavo da questo senpai in Giappone, è una storia lunga. E poi lui ha abusato di me, io ho abusato di lui. Ma prendiamo qualcos'altro da questa scatola, piuttosto che perdere tempo. Oh, ci sono degli artwork. Ci sono degli artwork qui dentro, stampati su cartoncino. E non vogliatemi male se non conosco questi anime, non criticatemi, non trattatemi male, davvero. Questo qua è un artwork di, dice, FLCL. Che non so cosa sia, ma se voi sapete cos'è e chi è questo personaggio, e chi è questo, cos'è questo anime, insomma. E se vale la pena vederlo, consigliatemelo nei commenti e io provvederò a rimediare, così come sto facendo con tanti altri anime. Perché anche My Hero Academy mi è stato fortemente suggerito da voi e da altri miei amici del tubo. E io ho detto, vabbè, lo guarderò e mi è piaciuto. Quindi seguirei i vostri consigli. E questo invece di High School DD, che anche questo non ho visto. Ditemi voi se vale la pena andarlo a vedere, a cercare. Questo è un bel artwork su cartoncino, carino, stampato e questo è quanto. Dove lo posso attaccare, tra l'altro, un affare del genere? Io vorrei tanto farmi una bacheca di sughero. In realtà io volevo fare questo muro qua tutto di sughero. So che voi adesso non vedete di che muro sto parlando. Però se avete presente nel mio ufficio c'è un muro bianco vicino al computer. Quello volevo fare tutto di sughero, così da attaccarci mille cose. Per ora ancora in testa la maglietta di questo loot anime, che sta vincendo tutti i premi di bellezza e simpatia. Abbiamo un anime, Konosuba God's Blessing on this wonderful world. Non ho mai visto un titolo così lungo. Konosuba. Avete visto quanto è lungo quel titolo? Konosuba God's Blessing on this wonderful world. E scommetto che dalla copertina si vince. Ma è che riflette molto, è molto riflettente questa copertina, come potete vedere. Ma dalla copertina si vince. Qui ci sono sicuramente delle boobies. Andiamo a cercarle. Qui senza dubbio ci sono delle boobies totalmente indiscrete. Magari proprio quel tipo di manga che deve fare vedere le mutandine. E i giapponesi si eccitano per vedere delle mutandine disegnate. E invece no. Non riesco a trovare delle boobies o delle mutandine. Oh, attenzione, questa se le sta coprendo le mutandine. Questa se le sta coprendo le mutandine. Perché qui il mangaka le voleva inquadrare. E lei si è rifiutata. Ha detto, io mangaka, se mi fai vedere le mutandine mi arrabbio se le coperte. Perché a quanto pare questo manga ha vita propria. Non so perché ma qui c'è un ragazzo con un reggiseno in mano. Non so se si vede questo reggiseno in mano. Quindi qua c'è qualcosa che non mi quadra. Qui ci devono essere quelle tipiche scene che fanno arrossire un po' i giapponaisis. Qui ecco, ovviamente dei tentacoli che vanno a cercare i capezzoli della ragazza. Perché i tentacoli, non so se lo sapete, ma proprio nella storia hentai i tentacoli sono fatti per penetrare e toccare, no? E guarda caso questi hanno un po' la forma di un pene, almeno in cima. Dove sono le mie boobies? Ah, e comunque sia, non in modo esagerato, scene sozze, leggibile, lo leggerò. E vedremo come va, e in caso lo continuerò. Dai, ma qui si vede, ecco le boobies. Ecco le boobies, lo trovate. Vedete qui, questa è stata legata in modo sadomaso. Sta lì sudando e sbavicchiando, mentre che uno probabilmente vorrà abusare di lei. Avete visto? Lo trovate le boobies. Lo sapevo che questo era un anime da boobies. Un manga da boobies. E io lo trovate, perché io sono il cacciatore delle boobies. Infine, come al solito, abbiamo un altro font charm. Ma questo più carino da quegli altri lucidi strani che abbiamo ricevuto negli altri loot anime è un gattino. Andiamolo a aprire. Palla sta spazzatura. Eccolo qui, è un gattino in una stellina. È carino? Vi piace? Beh, è mio ora. Si può mettere anche con un affaretto tipo per le cuffie, no? Quindi io lo posso mettere qua nel telefono per tappare il buco delle cuffie e questo rimane lì appeso. Capito che roba? Hai capito? Guarda come è appeso. Guarda come è appeso. Come un salame è appeso. Sai, i salami si appendono, no? Lo sapete, no? Questa cosa. Non il mio di salami. I salami in generale. A me piace appendere i salami. Dico sempre a mamma, mamma, quando vai a appendere i salami ricordati di avvisarmi così posso accompagnarti e appenderli anche io. Dove ti pare? Alle porte, alle finestre, alle mie palle. Dove vuoi, le appendiamo. Mamma, poi si scorda sempre e li va a appendere da sola. Eh, non va bene. Comunque abbiamo un altro bel poster qui. Uh, uh, uh. Mi sembra avere intravisto da questo poster una ragazza che si tiene i pantaloncini per non far vedere le mutandine. Molto male perché lì hai perso l'occasione di farle vedere. Di farcela vedere. E il poster di cos'è? Hans Seng. Che non so cosa sia. Ma ok, penso che questo qua sia il gattino, non so se si vede, che abbiamo sul phone charm. Questo gattino qua è quello che abbiamo sulla stellina sul phone charm. Questo è il poster, questa ragazza qui e questo è quanto. e qui dietro come al solito abbiamo quello che ti dice qual era il tema action comedy era il tema quindi a quanto pare flcl deve essere un action comedy come genere quindi è da vedere così come high school dd che devo assolutamente vedere questo con usuba che abbiamo ricevuto e il resto della roba di one punch man a questo punto mi aspettavo qualcosa di più simpatico piuttosto che questi pupi extra lucidati e che non puoi neanche guardare perché sembra che siano stati spruzzati con l'argento liquido cioè non so se ve lo rifaccio vedere ma proprio se la telecamera non non darà giustizia alla lucidezza di questi pupi troppo troppo sembra sta per morire genos ma l'ho salvato in corner ops è ricaduto genos non si tiene in piedi ok ora si cosa farò di questo bellissimo poster niente e come al solito la scatola è molto simpatica queste qua in genere sono simpatiche per i bambini che la possono utilizzare come ambientazioni tra le lotte dei loro pupini no non siete d'accordo almeno io faccio così metto li tutte vicino con i miei amico mi metto fare più 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 non è vero forse ma penso che per oggi sia più che sufficiente questo loot anime è stato abbastanza soddisfacente grazie a questa macchietta ma il resto un po così così l'anime cioè il manga che è uscito dentro vedremo com'è action comedy se avete titoli da suggerire che io possa guardare o leggere beh sono più che aperto ai vostri suggerimenti se vi è piaciuto questo video mostrate un bel po di amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su sempre ricordando che questo era electric buongiorno